Ben ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV del sito Gianluca Rossi.it più attenti noteranno la mia felpa Borussia Mönchengladbach è una delle mie squadre preferite malgrado l'anno scorso insomma era nel girone dell'Inter di Champions League che noi abbiamo pagato Dazio ma ha una storia meravigliosa per chi conosce il calcio chi non lo conosce non è un problema Borussia Mönchengladbach ha rifilato 5 gol al grande Bayern altra squadra che mi piace moltissimo per carità però Borussia Mönchengladbach insomma ha tutta una storia fin dagli anni 70 e devo dire che rifilare 5 gol in Coppa di Germania al Bayern di Lewandowski e Sochi beh merita perlomeno che per una giornata dalla mia collezione estragga questa antica felpa del Borussia Mönchengladbach allora torniamo naturalmente alle cose di casa nostra live chat venerdì 29 ottobre alle ore 19 vi voglio tutti presenti prepareremo il prossimo turno di campionato la notizia dell'ultima ora è l'assemblea dei soci che si è svolta questa mattina in accordo con il fuso di Nanchino Steven Zhang non ha fatto nient'altro che ho parlato anche con degli azionisti di rassicurare tutti sul fatto, mi spiace dirlo perché c'è qualcuno che continua indefessamente a crederci non c'è né PIF né Interspac in questo momento non c'è spazio per nessun altro Sunning vuole andare avanti come non si sa Steven Zhang assicura insomma che metterà a posto tutto sapete che cosa mi auguro è da tempo di avere una proprietà più ricca e più serena però non è che vi possa raccontare storie se in questo momento persino Ben Jacobs che forse ne sa più di me, più di noi, più di tutti voi è il giornalista insomma che segue le cose del Newcastle raffredda molto gli animi su un eventuale interesse immediato di PIF sull'Inter dobbiamo prenderne atto poi qualcuno può continuare, capito, a pensare che si muovano chissà quali cose ma noi dobbiamo stare alla fredda cronaca e la fredda cronaca ci dice che Steven Zhang vuole continuare più che mai con Sunning ad essere il proprietario dell'Inter fermo restando che Octricapital è lì ma questo noi lo sappiamo ripeto che fra un po' probabilmente col nuovo bond da 400 milioni da rifinanziare qualcosa cambierà ma non è una cosa a breve veniamo alle cose secondo me più importanti che sono quelle di campo cioè lasciamo da parte sempre i soliti bimbi sognatori e veniamo che poi io sono il primo che mi si augura ragazzi di cambiare proprietà ogni tanto qualcuno proprio gli parli in italiano ma non ci arriva proprio come lingua io sono il primo ad augurarmi che possa essere tutto vero ma se non è vero in questo momento o comunque non è attuale che vi devo dire io? sto all'attualità e l'attualità dice Napoli-Bologna oddio io ho detto che vincevano tutte le grandi e tutte le grandi hanno vinto anche la Roma-Cagliari mi interessava l'Inter la Juventus ha combinato quel che ha combinato non lo so possiamo immaginare che il Bologna giochi uno scherzetto al Napoli? non lo so non lo so però ripeto ne parleremo magari in live chat cioè c'è la live chat venerdì sapremo i risultati di tutta la decena giornata e vedremo tutto sommato che cosa è capitato intanto prepareremo l'undicesima perché poi c'è Salernitana-Napoli altra partita dove secondo me Spallettone a meno di sorprese dovrebbe passare senza grandi problemi però ecco Roma-Milan ecco già Roma-Milan è Murigno insomma Roma-Milan anche se la Roma ha fatto una fatica tremenda a vincere a Cagliari magari Roma-Milan e Inter-Udinese è l'occasione prima del derby per rosichiare qualcosa ecco lì posso dirvi che me lo aspetto e come se me lo aspetto? allora vi ho parlato dell'assemblea dei soci vi ho parlato anche Inter-Spac sono lì che sperano sempre di essere ricevuti col professor Cottarelli ma come vedete sto progetto non decolla ragazzi non c'è poco da fare dell'assemblea dei soci vi ho parlato di Sunink vuole rimanere insomma ve l'ho detto adesso torniamo insomma al day after di Empoli-Inter vittoria importante abbiamo vinto senza prendere gol ed è una cosa secondo me da segnalare siamo tornati a giocare per fare i gol per farli i gol non per gestirli dopo il vantaggio quella cosa mi fa molto piacere dai andiamo con un pagellone dove li mettiamo tanto sono tutti sufficienti tutti stavolta nessuna insufficienza mi sembra già una notizia devo dirvi che questa mattina ho mandato un messaggino a Massimiliano Farris che conosco da tanti anni Massimiliano Farris è il vice di Inzaghi era in panchina esordito sulla panchina dell'Inter e gli ho fatto le congratulazioni lui era molto contento credo che conoscendo anche papà e mamma siano molto contenti anche loro di averlo visto in panchina come allenatore dell'Inter certo l'allenatore Inzaghi però Farris ha firmato in panchina questa vittoria senza prendere gol facendo anche un certo turnover e quindi bravo anche a Massimiliano Farris quindi gli do subito per come l'hanno passata in scioltezza un bel 7 al duo Inzaghi che stava in tribuna Farris veniamo i nostri eroi Andanovic ma Andanovic è stato bravo su Mancuso certo poi è stato salvato da D'Ambrosio però voglio dire è stato salvato da D'Ambrosio sul tiro di Luperto è stato bravo su Mancuso quindi assolutamente posso dargli 6 tranquillamente beh Danilo D'Ambrosio è stata la sua partita 7 e mezzo ha salvato appunto Andanovic sul tiro di Luperto e Andanovic lì era battuto ha segnato la rete del vantaggio su azione fatta partire da Lu stesso insomma è stata la sua partita devo dire settimana scorsa il procuratore Pisacane era stato in sede all'Inter per chiedere maggior spazio per Danilo D'Ambrosio Danilo D'Ambrosio è stato accontentato e si è dimostrato veramente un giocatore che ama l'Inter e che fa bene quindi voi mi dite non si poteva far giocare Dunf D'Ambrosio in un Dunf riscola Juve lo so ragazzi col senno di poi però sono contento di aver recuperato Danilo bravo Danilo è stato il migliore in campo onestamente per te c'è un bel 7 e mezzo De Vrij 7 praticamente non l'ha mai fatta vedere perché questa è la verità sia a Pinamonti Lex che a Cutrone quindi 7 al suo posto a un certo punto Kolarov ma Kolarov insomma dobbiamo sempre massacrarlo stavolta tutto sommato ha tenuto il campo non ha fatto cose incredibili però 6 bastoni 6 e mezzo ha dato una mano a De Vrij e comunque tutto sommato al centro della difesa è andato bene Darmian Darmian 7 l'ho visto spesso sulla fascia andare avanti e indietro devo dire che Parisi insomma non era un avversario irresistibile però buoni cross e quindi Darmian 7 Barella 7 tra l'altro ha preso sto fallaccio da Ricci ma comunque pericoloso generoso insomma pericoloso per gli avversari e quindi devo dire un bel 7 se lo becca Brozovic 6 e mezzo ma non perché perché comunque ha fatto quello che doveva fare senza stancarsi troppo e quindi mi va benissimo e poi sostituito da Vessino Vessino 6 ha partecipato anche a delle variazioni offensive dell'Inter nel finale di gara va bene Gagliardino massacriamo sempre però ha provato anche colpito un palo ha provato a fare il furbo perché aveva segnato di braccio dai 6 e mezzo comunque ha preso un palo gol annullato dagli possiamo dare almeno 6 e mezzo ultimi minuti Sensi Sensi a me piace sempre moltissimo però sapete che di Sensi gli do 6 e basta perché ha giocato pochissimo non parlo più finché non fa 90 minuti mamma mia se avessimo Sensi non fatemi dire altro su Sensi io spero solo che riesca ad arrivare a giocare 90 minuti Di Marco 7 Di Marco raddoppio Di Marco milanese interista milanese di Calvairate seconda rete in campionato dopo quella con la Sampdoria ha chiuso la partita su calcio piazzato è sempre pericoloso bene 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 il secondo migliore dopo dopo D'Ambrosio non a caso D'Ambrosio e Di Marco due italiani nel tabellino marcatore di questa vittoria senza prendere gol 7 secco Sanchez 6 e mezzo perché poi ci rimane sempre male per il cambio ha fatto una bella gara finalmente suo l'assist per il gol di D'Ambrosio buone giocate in avanti per scardinare un po' il muro dell'Empoli per abbatterlo 6 e mezzo vi andare dai 6 a Correa un altro che tengo sotto osservazione provato anche qualcosina non ha fatto gol ma comunque è entrato meglio che altre volte Lautaro 6 e mezzo finalmente non come il fantasma visto con la Juve è comunque pericoloso fornisce lui l'assista di Marco e poi voglio dire colpo di testa poteva far meglio per battere Vicario comunque dai 6 e mezzo professore 6 è entrato negli ultimi minuti ha toccato due palloni subito due ripartenze riportando l'Inter in avanti quindi il professore glielo 6 insomma ragazzi queste sono le mie pagelle di tutto vi ho parlato di altro parleremo e sapremo anche il risultato di Napoli in Bologna in live chat vi ricordo domani alle ore 19 vi bacio e viva l'Inter in Bologna 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 in Bologna